ciao a tutti da daniela oggi ti invito agli eventi che si tirano nel mese di marzo vi aspettiamo numerosi il 3 4 5 e 6 di marzo presso ristore expo alla fiera di erba mercoledì 13 con lo chef ruggiero masterclass è l'ora della pausa franzo giovedì 14 eventi speciali quando la logistica 4.0 sposa la customer experience con giuseppe arditi donatella rampado alberto valenti e mauro maiocchi lunedì 25 con toni balsamo masterclass con l'azione perfetta cassa e base mercoledì 27 con meti masterclass formazione hccp e mercoledì 27 con donatella rampado eventi speciali come selezionare collaboratori vi aspettiamo tutti numerosi non mancate a questi fantastici eventi chiamate il numero verde 800 078 844 ciao a tutti e alla prossima